Walter Vettroni a Frassinetto con una grande folla ha presentato il suo ultimo libro legato al caso Moro, una pagina della storia dell'Italia ancora piena di interrogativi. Sì, è anche molto importante per quello che è successo dopo e anche per il futuro del nostro paese e quindi è giusto tornarci sopra, indagarla e cercare di capire meglio quello che è accaduto. Cosa aggiunge il suo libro ai tanti misteri di questo caso? No, aggiunge una riflessione d'insieme sulle ragioni politiche per le quali tutto questo è accaduto, oltre alle interviste con tanti dei protagonisti di quel momento.